Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Jolly Show da parte mia e di Semi Sempre lei Allora, siamo qui per la prima volta su Happy Whist Per chi non lo sapesse è un gioco Che praticamente ha dei livelli che sono insensati pesantemente Alcuni di più, alcuni di meno Ma molto spesso Semi, scelga lei Epic Basketball Dunk Ma cosa è successo? Perché mi apri le ricette? Sto facendo un pompino o un tizio sul campo C'è qua, Michael Jordan, bitch please Allora, exit o meno Ah, scelgo un altro Ah, che deal Sono incazzate, non bisogna toccarle Però io devo arrivare al traguardo Avranno un po' tanto ciclo, credo Ma non li ho toccate Mi saltano addosso Io direi di provare Matrix City Così, un brutto presentimento Ho vinto Ho vinto Non so come ma ho vinto Vabbè Ho investito un bambino Sto spaccando i meloni Ho investito altri bambini Proprio brutale No, pensavo di aver vinto Ho parlato presto Dai, dai Più veloce Dai, cazzo Dai Dai, più veloce Su Ti due secondi Mamma mia Ragazzi Garona Che Garona Vai, Semi Il prossimo Che devo fare Che non so Ti due secondi Ti due secondi Ti due secondi Ti due secondi Facciamo la fettata No Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Arpione in culo Ale Arpione in culo Ale Ale Ok Vi proviamo No No C'è L'ho Morte No Impossible Vai Ma Sono proprio Cerco Aia Aia Fa malissimo Let's go Cause I'm feeling like I'm running and I'm feeling like I gotta get away, get away, get away, better know that I don't and I won't ever stop, cause you know I gotta win every day, day C'è un break? Così, vai! Ah, cazzo duro ma senza futuro, mi dico sempre! Salta! Perché salta, se no, rimane! Ma porca me! Ah, posso incassarmi? Ah, ok, allora sì! Come sono belli questi angeli! Uuuuh! Mi hai infilato un non so cosa nelle palle! Ma va bene! Oh! Ah, ok, era anche la via giusta! Stai facendo questo! Ok! È inquietante! Cos'è successo? Perché? Sì! Però continua ad avere qualcosa tra le gambe del cupino! Oh mio Dio che figata che... Oh mio Dio! Steven Curry in ritorno! Mamma mia ragazzi! Che bella! Mamma che bella! Ok ragazzi! Ultimo livello del video! Lo concluderà Semi con Hulk Smash! Vai! Ciao! 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 Questo mi è piaciuto! Ok ragazzi! Credo che per questo video possa essere tutto da me e da Semi! Un caloroso appetito saluto quindi da Joly Show! A presto per altri video! Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like! Se non siete ancora iscritti iscrivetevi! Lasciatemi un commentino sotto per dirmi se volete un altro video in cui io da solo o con Semi o comunque in qualche modo ci possa essere un altro video nel futuro di Joly Show con Happy Wheels! Quindi, ciao bene!